benvenuti in un nuovo video della serie tutorial che sto portando di dead by daylight per ogni specifico killer nello scorso video abbiamo trattato la strega oggi andiamo a trattare il dottore è un killer simpatico siamo in diretta su twitch questa è la nostra meravigliosa chat vi invito come sempre se volete a passare a trovarci e dottore 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 a eccolo qua il frizzino è un killer estremamente particolare molto particolare focus sui punti di forza e punti di debolezza di questo killer punto di forza è un ottimo tracker che vuol dire grazie al suo potere ha una bella facilità nell'individuare la posizione dei sopravvissuti anche più di un sopravvissuto questo perché nel suo potere ha una abilità speciale chiamata static blast che quando tu rilasci genera una scarica elettrica all'interno del suo raggio del terrore che è di 32 metri e tutti i sopravvissuti all'interno di quel raggio urlano e rivelano anche la loro posizione quindi è un ottimo tracker altro punto di forza la follia quando i sopravvissuti vengono colpiti dallo static blast o dallo shock therapy la scossa gli si incrementa il livello di follia lo status di follia e a questo status sono legati diversi effetti dipende anche dagli add on dagli accessori che hai messo al dottore ma sono effetti che possono disturbare il sopravvissuto e una volta che arriva al massimo della follia il terzo livello il sopravvissuto ha diversi effetti legati ma non può compiere anche delle azioni per esempio non può curarsi non può andare a curare dei sopravvissuti non può andare a fare un generatore ok e in più ogni tanto urla rivelando la propria posizione e quindi dovrà perdere tempo a levarsi lo status della follia ok bene altro punto di forza è un killer che usato bene può rompere il loop questo perché lo shock therapy la scossa che tiri con il dottore se tu colpisci il sopravvissuto con la scossa c'è una finestra temporale di mi sembra un paio di secondi all'incirca in cui quel sopravvissuto non può usare perk come addon come il de dard ad esempio non può abbassare il pallet non può scavalcare la finestra quindi usato con il giusto tempismo la scossa non permette al sopravvissuto di utilizzare degli strumenti per poterti fermare e o rallentare nell'inseguimento dalla chat mi dicono due secondi e mezzo è una bella finestra temporale per il resto è un killer che ha una velocità di movimento standard e bla 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 punto negativo del doc vabbè non ha one shot ma quello ha anche tanti altri killer se c'è una cosa negativa del doc è che un sopravvissuto molto bravo potrebbe sceglierti con il giusto tempismo ti può rompere tutta la dinamica della scossa ti anticipa molto il pallet ha dei modi per counterarti e se riesci a counterarti in maniera efficace perdi tantissimo con il dottore diventa un killer che va normale corre normale e dà le botte di m1 fine nulla di più altro punto negativo è il fatto che l'utilizzo efficace del potere non è assolutamente semplice beccare la finestra temporale giusta per impedire al sopravvissuto di compiere quelle azioni soprattutto per un un killer ai primi livelli alle prime volte che lo utilizzi ti troverai malissimo anche perché la scossa di base quando tu la vai ad applicare un sopravvissuto ha un delay cioè non è che una volta che tu lanci la scossa gli si attiva subito il sopravvissuto ci sta un delay e lo rende difficile da usare bene per non parlare del fatto della latenza la latenza è il nemico fondamentale più importante del dottore la latenza la discrepanza tra quello che tu vedi da killer e quello che in realtà sta facendo il sopravvissuto ci sta una sorta di discrepanza che può essere piccola come può essere invece un po' più ampia dipende quello dalla tua connessione dalla connessione del sopravvissuto dal server da un sacco di roba e quindi non sorprenderti se magari tu hai tirato la scossa il survivor ha urlato quindi in teoria non potrebbe fare nulla e in realtà ti abbassa il pallet o in realtà ti scavalca la finestra è una delle cose più irritanti del dottore purtroppo perché se no di base se uno se lo sa usare bene è un killer molto rompiscatole davvero molto rompiscatole andiamo a dare una dimostrazione in partita ma prima come al solito loadout per chi non ha i perk cosa vi consiglio da mettere se non avete dei perk sbloccati vi consiglio il noed classico m1 killer se la partita vi va male potete recuperare qualcosina in endgame sloppy butcher appunto dai sempre le hit con il tuo colpo primario con il tuo colpo principale quindi si può applicare macellaio approssimativo con i suoi effetti overcharge questa è una competenza del dottore ve la consiglio soltanto se siete dei dottori di fascia bassa se sono le prime volte che giocate e i sopravvissuti che affrontate sono di livello basso questo perché come funziona questo perk dopo che è scalciato un generatore applichi sovraccarico su quel generatore e la prossima volta che un sopravvissuto va a ripararlo gli arriva subito uno skill check difficile e i sopravvissuti alle prime armi li sbagliano questo comporta che esplode il generatore tu sai che ti stanno facendo quel generatore e in più sbagliare quello skill check porta a un 5% in più di regressione sul generatore altro perk che vi consiglio è sussurri questo perché perché sussurri si attiva nel momento in cui avete uno o più sopravvissuti all'interno di un raggio di 32 metri di quant'è il raggio standard del dottore 32 metri come si attiva lo static blast su un sopravvissuto sia all'interno di 32 metri quindi è un perk che worka molto bene con il potere del dottore avere whisper attivo ti dà la sicurezza la certezza che se tu attivi lo static blast qualcuno prendi molto buono davvero molto buono un altro perk che potreste utilizzare che a breve diventerà una competenza generica è surge che attualmente è la competenza del demogorgone ma dalla prossima patch dovrebbe diventare un perk generico quello è un perk che quando stand un sopravvissuto se ci sono generatori attivi in un raggio di 32 metri quelli scoppiano scoppiano da soli potreste anche mettervi quello e via partiamo piccola dimostrazione ci mettiamo come mappa una mappa da poter sfruttare come si deve ci possiamo mettere dove vi posso far vedere un po' di robetta sarebbe comoda una mappa con unsafe loop e safe loop che ha un po' un mix ma anche springwood vai tra l'altro un'altra cosa con sussurri se voi avete sussurri attivo lanciate lo static blast e nessuno urla vuol dire che un sopravvissuto in un raggio di 32 metri si è nascosto in un armadio quindi stateci attenti perché potreste prendere un survivor in un modo molto semplice cercate vi date un attimo un'occhiata sull'armadio che magari sta più vicino a voi sta da quelle parti e provate ad aprirli perché al 99% ci troverete un sopravvissuto dentro se già non ti esce prima insomma allora eccoci qua Springwood piccola dimostrazione allora tu di solito che fai inizi la partita ti metti a controllare gen hai un whisper se non ce l'hai per esempio raggiungi una zona con un po' di generatori magari un po' più lontana rispetto a dove sei spawnato e lanci lo static va bene lo static lo puoi caricare lo puoi anche annullare non è che una volta che lo attivi lo devi fare per forza ci si attiva whisper vuol dire che c'è un sopravvissuto in un raggio di 32 metri quindi noi lo carichiamo e sboh sappiamo dov'è il sopravvissuto e a quel punto magari gli andiamo dietro facciamo un chase allora piccola dimostrazione Rari no non andarmi in là esci fuori puntami la finestra cortesemente allora noi sappiamo che il server sta andando alla finestra carichiamo la scossa scossa ha scavalcato uguale perché perché c'è un delay eh c'è un delay fermo Rari guardate quanto è il delay è un po' alto allora se questo delay vi dà tanto fastidio ci sono degli accessori che ve lo riducono quindi potreste utilizzarli vi danno un po' una mano a ridurre un po' questo delay così fastidioso che potrebbe sminchiarvi un po' la scossa se no altrimenti dovete metterlo in conto va bene dovete anticipare di molto allora rifacciamo Rally prendi un po' vieni verso di me ok vai verso la finestra vai lo tirate molto in anticipo troppo lontano aspetta vieni riavvicinati giusto era un po' lontano vai bloccato non può scavalcare e a questo punto potete tirare l'hit ok stessa cosa su un pallet senza che ve lo faccio vedere se lui corre verso un pallet cercate anche qui di anticipare col giusto tempismo urla non può abbassarlo e potete hittarlo ok allora mi serve adesso magari un unsafe ma anche tipo questo vieni qua Rally allora situazione classica tu vai dietro allora Rally quello che devi fare adesso è anticiparmi il pallet ok allora aspetta un attimo situazione classica tu vai dietro un sopravvissuto lui sta andando verso un pallet ha paura della scossa che magari gliela vuoi annullare gli vuoi annullare il pallet te lo predroppa non scoraggiatevi voi comunque tiratela la scossa perché potete fare una cosa vai mi raccomando droppalo oppela fate questo questo perché ci sta un lato unsafe dove potete tagliare corto se voi comunque gliela tirate la scossa anche se lui vi abbassa il pallet non potrà riscavalcare non potrà comunque riscavalcare il pallet perché è bloccato e questo vi dà la sicurezza che lo andrete a colpire cercate di sfruttarvi questa meccanica sugli unsafe loop ok potete veramente bloccare completamente un serve e qualsiasi cosa che fa lo fregate alla grande basta avere un po' di freddezza e lucidità ovviamente sono tutte cose che il lato sopravvissuto puoi conterare puoi prevedere magari tu ti aspetti una roba del genere non lo abbassi il pallet e tiri dritto ti prendi la scossa e ti provi comunque sia a luppare normalmente bla 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 però di base questo è il dock cercate di usare quando avete lo static blast carico usatelo il più possibile vi permette di traccare i survivor dove sono in più ogni volta che lanciate lo static aumentate di un grado la foglia dei sopravvissuti quindi anche se magari ci sta un momento dove un sopravvissuto è sul gancio e uno lo sta andando a fare il save fa il save tu sai che lì ci sono due sopravvissuti mentre ti avvicini glielo lanci lo static a due sopravvissuti gli metterai uno stato di foglia in più magari ne becchi pure un altro che non sai dov'è da quelle parti ah cosa al gancio che non vi posso far vedere perché ho soltanto un sopravvissuto con me se per esempio voi vedete un sopravvissuto che sta andando a fare il save potete metterlo ancora più in difficoltà piuttosto che andare dritto a tirargli l'hit quando lui sta per fare il save gli lanciate la scossa perché se lo fate col giusto tempismo voi gli annullate l'animazione gli annullate l'animazione del salvataggio per due secondi e mezzo non potrà farlo e tu stai lì gli puoi dare l'hit lo puoi cacciare via oppure se vuoi provare a fare il save tu comunque ti assicuri che te lo riprendi è una buona meccanica da sfruttare ah vi ricordo che lo static non ti dà l'effetto dello shock therapy anche se tu lanci un colpo di static blast i sopravvissuti che urlano non hanno quell'effetto quella finestra temporale in cui non possono fare le cose quello è un altro effetto è un effetto legato proprio allo shock therapy alla scossa che altro che altro dirvi la scossa può essere usata pure ovviamente per interrompere magari un sopravvissuto che sta facendo un generatore che pensi che non riuscirai magari ad arrivare lì a tirargli un colpo prima che ti chiude il gen oppure sai che anche se tu gli tiri un colpo lui riuscirà comunque a chiudertelo dopo quel colpo e quindi magari che fai tiri una scossa gli annuli l'animazione e lui non te lo può riprendere neanche subito il gen e chiudertelo ok quindi sfruttala anche così la scossa e usata bene ti dà anche molta soddisfazione ci puoi fare della roba molto figa dei main game molto belli con la scossa il mio preferito è tipo quello alla 4x4 è uno dei miei main game preferiti vieni Rally vediamo se riusciamo a farlo ogni tanto mi viene allora va fatto questo viene molto bene in una situazione come questa Rally mi devi luppare da qua e devi andarmi verso il pallet passando dall'esterno vai allora tu pensi che il serve arriverà al pallet e lo butterà quindi che fai lanci la scossa urla io lo butti scavalchi lui è bloccato boom hit questo è uno dei main game più fighi da fare col doc è uno dei più fighi sta cosa riesce bene soprattutto quando i sopravvissuti sono feriti quindi sono un po' impanicati hanno paura che tu comunque gli ci arrivi tu stai ad una distanza tale da loro che loro sanno che se non abbassano il pallet e tu gli vai dritti dritto li stendi quindi è molto facile che loro te lo abbasseranno e tu prevedendolo gli tiri la scossa in anticipo loro lo abbassano urlano bloccati intanto gli scavalchi e li stendi è uno dei main game più fighi da fare se avete l'occasione provatelo perché vi dà soddisfazione per il resto questo è raga con lo static blast situazione che ti rimane un unico survivor in partita hai chiuso la botola hai due gate lontani se avete whisper è facilissimo una volta e vi si attiva whisper su uno dei due gate attivate lo static lo prendete se non urla nessuno sta in un armadio ok anche se non avete whisper comunque lo static vi aiuta vi può comunque aiutare a capire dov'è l'ultimo sopravvissuto vai andate verso un gate lasciate lo static non urla nessuno può stare comunque dentro l'armadio ma tu comunque magari pensi vabbè sta dall'altra parte e magari ce lo ciocchi oppure oppure non vuoi rischiare di rimanere con un sopravvissuto che ti va a trovare la botola quando hai steso il penultimo serve provi a farti un attimo un giretto e a lanciare uno static dove pensi che possa essere l'ultimo serve Mari lo becchi e hai chiuso la partita no? questo è quanto non c'è troppo da dire riguardo il doc è molto incentrato sull'utilizzo sull'utilizzo efficace della sua meccanica con la scossa quindi devi imparare a usarla bene devi imparare il tempismo senza donne che riducono quel delay tu devi fare le cose pensando a quel delay quindi devi anticipare bene la scossa senza donne il dottore è abbastanza scarso come killer quindi vi consiglio sempre di utilizzare gli accessori ci sono diversi accessori molto molto buoni da fare con il doc da usare con il doc uno classico a parte gli addoni quelli lì che ti riducono quel delay ci sono degli addoni come questo che ti incrementano il range della scossa quindi li puoi colpire da una distanza maggiore questo te la incrementa tantissimo ma ci sono anche ce ne sta anche uno giallo che te la incrementa ci sono addoni che ti riducono il cooldown dello static la ricarica dello static blast per poterlo usare più spesso ci sono addoni che sono ancora più particolari che mentre hai lo static pronto ti incrementano il raggio del terrore e quindi hai un raggio maggiore per dove poter attivare lo static blast mentre invece se hai lo static blast è disattivato te lo riducono questo addoni ad esempio lavora molto bene con la competenza del dottore monitor and abused che mentre sei in cese te lo incrementa mentre non sei in cese te lo decrementa bla 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 ce ne stanno tanti veramente ottimi davvero ottimi gli addoni rossi pure mettono degli effetti fighissimi ai survivor quando vanno quando hanno la follia alta insomma c'è tanta robetta cercate di sfruttarli sempre gli addon col doc perché senza addon è un killer meh molto meh molto meh e questo è tutto chat salutate youtube e raga come al solito se avete delle domande dei dubbi riguardo il dottore prego scrivete nella sezione commenti del video vi invito come al solito a passare qua su twitch a trovarci così potete parlare essere coinvolti in una community attiva di dead by daylight ci trovate tutti i pomeriggi in live tranne il lunedì e parliamo spesso di dead by daylight giochiamo spesso a dead by daylight potete farmi delle domande anche in diretta se posso vi rispondo e se non vi rispondo io vi rispondono in chat per il resto al prossimo video prossimo video tutorial che riguarderà l'header face vi aspetto alla prossima ciao ciao